Per i 30 anni di Erasmus e 10 di Agenzia Nazionale per i Giovani, l'iniziativa per raccontare i risultati ottenuti in questi anni di un'attività che hanno visto la partecipazione di oltre 110.000 giovani italiani ai programmi europei. Sentiamo Gemma Giovannelli. Era molto bello il fatto di mescolare ogni lingua, ogni persona, ogni cultura. Molte volte c'erano persone che neanche parlavano bene l'inglese ma era ancora meglio perché ci capivamo ancora meglio e ogni volta tornavo a casa sempre più ricca, diciamo. I sogni e le aspirazioni dentro una valigia per oltre 3 milioni e mezzo di giovani in tutto il mondo. Il 10% è rappresentato da italiani che a 30 anni di distanza dalla nascita di Erasmus il programma di mobilità studentesca hanno varcato le frontiere per studiare e tornare più ricchi. Spesso si fa tanta strada ma poi non c'è un'evoluzione personale. I progetti Erasmus in Europa invece mi hanno dato questo, mi hanno aperto l'ambiente. Le storie dei protagonisti di giovani che hanno trovato la loro strada hanno aperto la loro mente. 10, 30, 60 al Tempio di Adriano. A Roma l'Agenzia Nazionale per i Giovani, il più grande diffusore di cultura e pratica europea per Under 30, festeggia 10 anni di attività insieme ai 30 del programma Erasmus nell'ambito dei 60 anni dei trattati di Roma. 10 anni in cui ci sono state tantissime cose, 92 milioni di euro investiti, 110 mila under 30 italiani che hanno vissuto un'esperienza europea grazie a Erasmus+, oltre 5 mila progetti finanziati seguiti che hanno coinvolto i giovani italiani. 13 milioni di euro investiti per il Lazio. Le celebrazioni non solo per ricordare i successi passati e presenti ma per gettare le basi per il futuro in Europa perché ora è ora e il meglio deve ancora venire. Un piccolo...